Ciao, oggi raddoppiamo i led che abbiamo usato nel video precedente. Ciao, mi pare di capire che continuiamo ad usare i registri a scorrimento. Sì, possiamo anche dire che questo video è la continuazione del video precedente, ma più che all'hardware, in questo video parleremo di programmazione. Bene, quindi la preparazione del circuito oggi sarà veloce, immagino. Sì, è praticamente il circuito del video precedente, ma con il doppio di led e registri. Ogni registro controlla 8 led, un registro all'ingresso di dati connesso ad arduino e l'uscita dei flip flop di scorrimento è connessa all'ingresso di un altro flip flop, per un totale di 4 registri 74HC595. Ovviamente i clock di scorrimento e di memorizzazione di tutti i registri sono connessi ad arduino. Il master reset è connesso al positivo dell'alimentazione e l'output enable è collegato a massa. Per risparmiare spazio uso le barre led. In questo modo il circuito occupa solo una breadboard intera. Purtroppo le barre usano 10 led, ma se ne accendono solo 8, se no i collegamenti diventano molto più intricati. Adesso riprendo l'ultimo sketch del video precedente, dove ho fatto l'effetto supercar con 16 led. Modifichiamo lo sketch per usare tutti i 32 led. Per fare questo occorre raddoppiare l'uso della funzione shift out e nelle nuove righe occorre spostare il bit di 16 e 24 posizioni. Allunghiamo il ciclo 4 per usare tutti i 32 led. Bene, ma mi pare che lo sketch comincia ad allungarsi. C'è un sistema per evitare che questo sketch diventi difficilmente leggibile? Certo, in questi casi le parti di uno sketch che si ripetono, o anche quelle che assolvono un compito ben definito, è conveniente racchiuderle in un blocco particolare chiamato funzione. La nuova funzione può essere chiamata da varie parti dello sketch rendendolo più facile da capire. Le funzioni possono eseguire azioni o calcoli e in alcuni casi restituire anche dei dati. Quando non devono restituire nessun risultato, si usa la parola chiave void. Questa parola chiave è usata anche per definire le funzioni setup e loop. Subito dopo la funzione loop, scriviamo quindi void in via registri aperta parentesi tonda. In questo posto possiamo definire dei parametri, ovvero dei dati da inviare alla funzione necessari per eseguire la sua attività. In pratica si tratta di variabili con un tipo e un nome. Nel nostro caso occorre passare 32 bit da inviare registri per controllare i LED. Non va bene usare una variabile int, perché è limitata a 16 bit. Occorre usare quindi long int, o anche solo long, che in Arduino contiene un valore numerico intero con segno 32 bit, ovvero da meno 2 miliardi a più 2 miliardi. Oppure si potrebbe usare una ansigna del long. Anche questa è una variabile a 32 bit per numeri interi positivi, ovvero da 0 a circa 4 miliardi. In questo sketch, lavorando solo sui bit, il fatto che la variabile sia con segno o senza segno è comunque indifferente. Scriviamo quindi un segned long dati, virgola un segned long durata. In questo modo possiamo usare la funzione sia per inviare il bit ai registri, sia per controllare la durata, rendendo molto più snella la funzione loop. Dopo aver definito i parametri della funzione, chiudiamo la parentesi tonda e tra parentesi graffe e spostiamo le funzioni shift out, digital write e delay usate nella funzione loop. Nella funzione loop, quindi, teniamo solo le due strutture for, che come un'unica operazione chiamano la funzione inviare i registri, coibito da inviare i registri di scordimento in millisecondi di attesa. Carichiamo lo sketch. Sembra che si comporti in modo strano, ma c'è una spiegazione. Occorre infatti sapere che, se non viene specificato, un valore intero in Arduino viene considerato un intero a 16 bit, per cui il valore di 1 che viene spostato a sinistra è comunque calcolato a 16 bit. Bisogna aggiungere una L alla destra del numero 1 per farlo diventare un long, ovvero un valore a 32 bit. Riproviamo con questo sketch. Problema risolto! Adesso funziona esattamente come vogliamo. Infatti! Adesso, al posto di far scorrere il valore 1, proviamo a far scorrere il valore a 32 bit con tutti i bit a 1. Non occorre impararlo a memoria. Basta scriverlo in esa decimale, ovvero 0, x e una serie di 8f. Carichiamo lo sketch. Sembra una tenda che si apre e si chiude. Riusciresti a farla anche dall'altra parte? Macerato, basta cambiare la direzione dello scorrimento. Carichiamo lo sketch. Bene! Adesso però ti sfido a fare un sipario, ovvero a far accendere i LED dalle estremità verso il centro e poi spegnerle dal centro verso le estremità. Sembra difficile, ma praticamente basta usare due tende in contemporanea. Le mettiamo a 16 i contatori. Adesso occorre comporre due tende, quella a destra e quella a sinistra, e inviare la composizione ai registri. Per comporre le due tende, possiamo usare ancora il trucco dello scorrimento e per unirle basta usare l'operatore OR. La tenda di sinistra corrispondeva all'esa decimale FFFF00000 quando chiusa e va applicato uno scorrimento a sinistra per aprirla. La tenda a destra è invece solo FFFF, con uno scorrimento a destra. La formula va bene sia per aprire il sipario sia per chiuderlo. Cambia solo la direzione del conteggio del ciclo FOR. Vediamo meglio come funziona questa formula usando Logisim. Usiamo due ingressi a 32 bit e li impostiamo come due tende del sipario. Queste tende le inviamo a due blocchi di scorrimento, una a destra e una a sinistra, controllati da un contatore. Le uscite dello scorrimento le inviamo a una porta OR. Carichiamo lo sketch. Simpatico come effetto, bravo! E se ti chiedessi di fare l'effetto nevicata con accumulo? È facile, mi servono due cicli FOR, uno dentro l'altro. Quello più esterno per gestire il cumulo di neve e quello interno per la nevicata. Il ciclo esterno è normale contatore da 0,32. Il ciclo interno invece va da 32 all'indietro fino al valore del cumulo. A questo punto basta usare una OR per unire il cumulo che è praticamente come una tenda alla nevicata che è come l'effetto supercar. Completo e calco lo sketch. Termino di spiegarlo tra poco appena funziona. La seconda parte del circuito si potrebbe immaginare che rappresenti la neve che si scioglie. Di fatto è un esercizio di programmazione per ottenere un effetto luminoso opposto. Ho anche messo un ritardo di mezz'alto rispetto agli sketch precedenti perché questa animazione richiede parecchio più tempo per svolgersi. In pratica, con i giusti componenti e la giusta idea si può anche fare arte. Bravo! Adesso, cosa ci fai vedere? Purtroppo a volte uno o due cicli for e una formula matematica non bastano a creare un'animazione simpatica. Quando l'animazione è un po' complessa occorre scriverla istante per istante e poi farla leggere come se fosse una registrazione. La cosa più semplice è usare un array. Un array è un insieme di contenitori di valori che fa capo ad una sola variabile. Si può quindi accedere ad ogni elemento usando un indice numerico. In Arduino e con i linguaggi compilati come il C l'indice per accedere ad un elemento di un array è un numero intero. Gli indici sono tutti numeri interi consecutivi. Il primo elemento ha indice 0 e gli elementi sono tutti dello stesso tipo. Nei linguaggi interpretati come PHP, JavaScript o Python gli array sono molto più flessibili e potenti ma un linguaggio interpretato ha una natura molto diversa da un linguaggio compilato e richiede una CPU molto più potente di Arduino. Creiamo quindi un array chiamato scene. Ogni scene della nostra animazione è quindi un valore a 32 bit da passare ai registri. Per comodità questo valore lo scriviamo in formato binario aggiungendo 0b davanti al nostro valore e mettiamo questi valori 1 per riga. In questo modo possiamo comporre la nostra scenetta direttamente dall'interno dello sketch e le cifre 1 e 0 rappresentano proprio i singoli led distante per istante. Adesso la funzione loop diventa un semplice ciclo for che invia le scene ai registri. Il limite del ciclo for lo facciamo calcolare in arcutomatico data la dimensione totale della variabile scene diviso la dimensione di una singola scena. Carichiamo lo sketch. Simpatico! Ovviamente in questo modo possiamo creare tutte le sequenze che vogliamo senza preoccuparci di comporre formule matematiche o logiche. Però adesso direi che è arrivato il momento di concludere. Cosa mostriamo? Per il gran finale pensavo ad una sequenza molto particolare. Aggiungiamo nel setup la preparazione di una sequenza casuale. Creiamo una variabile stato led di tipo un singed long all'esterno della funzione loop che all'inizio contiene tutti i bit a 0. Dentro la funzione loop scriviamo un'unica riga ovvero il comando invia registri. Il valore da inviare registra è la variabile stato led dove un bit a caso viene invertito e salvato nella stessa variabile. Il linguaggio con cui si programma Arduino ma praticamente qualsiasi linguaggio è un moderno compilato o interpretato riesce a fare queste tre cose con una scrittura molto compatta. Carichiamo lo sketch. Wow! Ottimo! Direi che con questo sketch possiamo dire di avere compreso perfettamente come usare un 74HC 595 Infatti al prossimo video Ciao a tutti! Ciao!